Voglio presentarvi questa nuova etichetta di Giuseppe Cortese, è un Barbaresco classico. Per la prima volta, oltre al Barbaresco Rabayat, l'azienda offre un altro Barbaresco. Le origini di questo vino sono comunque nel Rabayat, come appunto la nostra etichetta famosa. Da una prima selezione otteniamo il più grande Rabayat e poi otteniamo comunque da alcune parcelle, sempre in questa fantastica vigna, questa nuova etichetta. L'idea di questo vino è quella di essere un pochettino più facilmente approcciabile rispetto a Rabayat, uscirà sul mercato prima. Il vino farà leggermente meno affinamento, giusto perché non deve giocare sulla austerità e sulla grande struttura del fratello maggiore, ma deve piuttosto giocare bene sulla piacevolezza, sulla finezza, sull'eleganza e sull'ottima beva.